buongiorno mamma mia scusate raga sono io al comando today and we go to Lourdes un paio d'ore forse e arriviamo a destinazione abbiamo trovato un campeggio con elettricità oggi sistemiamo il camper ci sistemiamo per cenone di domani ci siamo fermati in questo piccolo paesino Clermont Poules è una bomboniera le ho nazionato a trovare i suoi amici Manus li ha incontrati anni fa e adesso li ha portato una bottiglia di vino e lui l'ha riconosciuto ok come potete vedere dalla faccia di Cinzia abbiamo salutato i miei amici Manus e siamo arrivati a Lourdes eccoci Lamping, la vue Vergine, l'air de camping car, ici du Maine bonjour born camping car automatic perfetto il campeggio è completamente automatico ma noi già sappiamo cosa dobbiamo fare perfetto c'è anche l'italiano siete arrivato siete arrivato 15 euro 20 residenza 24 acqua più elettricità ok siamo entrati mamma mia il saffarone a Lourdes che fai? c'è una fruttatina vista Pirenei ecco lì ecco lì c'è anche il cielo Sì, 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 sì. La città è via da due ore e inizio un po' a preoccuparmi. Capiamo. Va bene, stai attenta. Ciao. I negozi e la mia bici. La mia bici. Mamma mia. Ragazzi. Cinzia, è arrivato? Com'è? Allora, Cinzia, che hai preso? Ho preso le boccettine. Tutte con l'acqua. Tutte con l'acqua. C'hai ripetuto? Sì, certo. Alla mità di Lourdes. Ho fatto la barba. Oggi abbiamo dei vicini di casa super fighi. Stanno venendo dei whisky. In queste casettine invece c'è uno ancora più figo. Lui. Che griglia a Lourdes. Mamma, che bello.